Siamo di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con Orobi Extra e parliamo di funghi, c'è un bellissimo servizio sul nostro numero di Orobi appunto di settembre, è proprio la stagione e ne parliamo con un esperto, Pierino Bigoni, una vera e propria autorità in questo campo, perlomeno nella Bergamasca, è infatti il coordinatore del comitato scientifico del gruppo di Villadogna dell'Associazione Nazionale Micologica Bresadola. Che stagione è questa per i funghi? È una stagione che diciamo è partita molto bene all'inizio con i funghi primaverili, abbiamo avuto un sacco di fioriture di morchiella e sculenta chiamate comunemente spugnole, poi andiamo avanti con la stagione, abbiamo il fungo di San Giorgio che sarebbe la Leofilum gambosum in nome scientifico, però chiamato fungo appunto di San Giorgio per la crescita nel periodo di aprile e primaverile e poi sono già usciti i primi porcini nel mese di maggio, fioriture anticipate rispetto alla stagione normale che di solito il porcino dell'estate lo troviamo a fine giugno e inizio luglio e quest'anno invece ci sono state buone fioriture già alla fine di maggio. Il discorso dei funghi è un mondo misterioso e affascinante, non sappiamo mai quando crescono, come crescono e dove crescono perché bisogna seguire tutta una procedura particolare. Rispetto ai fiori, il cambiamento del fiori io vado, sarà in anticipo, in ritardo, però il fiore lo posso sempre trovare. Il discorso funghi può darsi che il micelio fruttifichi o non fruttifichi o rimanga latente per degli anni. E adesso però viene il bello, insomma, con l'autunno, con settembre dovrebbe arrivare il periodo migliore, speriamo. L'autunno è il periodo migliore per le fioriture di funghi, è sempre legato al clima, condizioni climatiche, caldo, umido, allora i funghi crescono. Ecco, se invece il problema è il vento, la siccità è il vento perché molte volte magari piove, poi due giornate di vento e vanifica tutto il discorso della fruttificazione. Un problema è anche un po' la condizione dei boschi oggi di come vengono mantenuti rispetto a un tempo. Sì, l'abbandono dei boschi è un fattore molto determinante sulla crescita di funghi, su certi tipi di funghi, perché anche lì bisogna distinguere i funghi parassiti, saprofiti o simbionti, allora i funghi parassiti sono praticamente gli spazzini del bosco. I funghi parassiti fanno morire la pianta, ma che fanno anche da selezione in modo particolare, i funghi simbionti sono legati alla pianta. Ai ragazzi delle scuole gli dico sono amici delle piante, perciò il discorso dell'abbandono del bosco cambia anche il tipo di tipologia di fungo che cresce nel bosco. Ecco, se il bosco è abbandonato, ramagli e così, intervengono i funghi spazzini. C'è tutta una procedura diversa da quella che noi vediamo comunemente. Se il bosco è ben tenuto, allora abbiamo anche fioriture di buoni funghi simbionti, sia velenosi che combustibili. Un mondo misterioso, come dice, ma che va rispettato. Sì, è il discorso importante, perché io vedo, seguo anche l'appelato dell'ecologia del bosco, in modo particolare ho puntato anche con i ragazzi del CRE durante le escursioni estive che abbiamo effettuato. E ragazzi, io ho buttato la carta, dove la metto? L'hai portata nello zaino? Te la rimetti nello zaino, come pure la bottiglietta, come pure la lattina. Ecco, io vedo che c'è, forse mancano dalle famiglie, non so da che venga, però manca proprio l'educazione, andrebbe fatta ancora alle scuole l'educazione civica, perché vedo che c'è un abbandono. Nel nostro opuscolo, di fatti, della 42esima mostra del fungo che stiamo effettuando, abbiamo inserito appunto una parte ecologica riguardo appunto agli ultimi dati della plastica in giro nell'abbandono. Perciò, attenzione, il discorso ecologico è molto importante e è legato appunto anche ai nostri boschi. Uno va a funghi, abbandona, non trova niente, la borsetta di plastica, che è proprio una cosa più dannosa che ci sia. O danneggia funghi che magari non riconosce. Sì, ecco, casper, stab, butta in giro. Oltretutto c'è stato anche un ritrovamento particolare di un fungo in bottiglia. Un maleducato ha abbandonato la bottiglia del succo di frutta, il micelio è entrato nella bottiglietta, ha fruttificato e all'interno è nato appunto, è spuntato un fungo, un porcino, oltretutto un bolletto sedoli. Attenzione, bisogna fare anche appunto all'attrezzatura, come si va in montagna, perché comunque si va in montagna. C'è comunque un discorso di sicurezza, non solo si va a cercare funghi, ma si è in un ambiente che ha dei rischi. Sì, rispetto all'escursionista che segue i sentieri segnalati, il cercatore, come faccio pure molte volte anch'io, si va a cercare nei posti più impervi, per trovare, si spera sempre che non sia passato nessuno. E non è vero perché ormai non c'è più il posto, è solo il mio posto. I segreti. I segreti. Perciò attrezzatura molto importante, i scarponcini, pantaloni lunghi, molti vanno con la tutta mimetica, anche quello non sbaglio perché va bene, non ti vedono. Però è importante, se uno si perde, come è capitato, vari dispersi in montagna, appunto, e dopo non so se li hanno trovati o li troveranno, il problema è quello. È qualcosa di molto visibile, un cappellino visibile, la tutta mimetica non ti vede, non ti mimetizzi, senz'altro non ti vede la concorrenza, diciamo così, dell'altro cercatore di funghi. Però è molto importante avere scarponcini, pantaloni, coperti, che può capitare il temporale improvviso, lo zaino. Io, ad esempio, ho messo un moschettone appeso allo zaino, gli metto il gestino, così ho le mani libere con le mie racchette. Sì, mi può capitare, c'è anche l'imprevisto e l'infortunio, capita a tutti, è il più attento, però a certe regole vanno rispettate. E ci sono poi appunto dei regolamenti. Sì, ecco, oltretutto bisogna attingersi a certi regolamenti. C'è il regolamento regionale che prevede 3 kg a testa con il cestino, la legge dice contenitore areato, io preferisco dire il cestino, cestino rigido areato anche per il discorso sanitario che i funghi rimangono, si conservano meglio, anche per la dispersione delle spore. Uno cammina, praticamente, se il fungo è maturo, le spore cadono nel terreno, germinano e c'è tutto un procedimento. Di nuovi funghi che nasceranno. Il discorso del regolamento, allora, 3 kg, legge regionale 3 kg, dall'alba al tramonto, non andate con le piglie di notte, e contenitore rigido areato. Poi un'altra cosa, ogni comunità montana ha legiferato a modo suo, perciò c'è la Val Brembana, c'è la Val Seriana, c'è la Val di Scalve, c'è la Val Camonica, attenetevi ai regolamenti perché tutti gli anni cambiano, perciò informatevi bene su ogni località dove andate, se la raccolta è libera oppure se serve un regolamento. Ci sono dei comuni sicuramente che sono liberi, che è la Conca della Presolana, la Pinetta della Selva e certi comuni dell'Alta Valle che non vigi il regolamento regionale 3 kg. Altri comuni invece ha legiferato, attenetevi alla raccolta col tesserino. E poi fate controllare i funghi che trovate. Ecco, una cosa molto importante, fate controllare perché il discorso dell'intossicazione dei funghi è molto attuale, perciò andate presse i centri micologici dove c'è l'ispettore micologo della TS, oppure venite per la determinazione alla mostra del fungo a Villadogna, che siamo presenti fino al 19 tutti i giorni, oppure venite verso la sede del gruppo micologico il lunedì e il venerdì sera tutto l'anno, noi dalle 20.30 alle 23 siamo presenti per darvi dei consigli per la determinazione, non parlo della commestibilità. La commestibilità di un fungo è demandata all'ispettore micologo, che è una cosa molto importante. Noi possiamo parlare di funghi, vi faccio la microscopia, tutto quello che volete, che riesco a dire perché non conosco tutto neanche io, e perciò parliamo di funghi e le varie cose. La mostra del fungo di Villadogna è un appuntamento, lei l'ha citato, sempre molto partecipato, molto interessante. Sì, siamo arrivati alla 42esima mostra, è un appuntamento molto ormai, si è creata una scuola di micologia all'interno della mostra, devo ringraziare i numerosi villeggianti, oltre ai cercatori locali che ci danno una mano nella raccolta per la mostra, anche i numerosi villeggianti che frequentano le nostre bellissime vallate, perché si è creata una scuola di micologia. Molti ragazzini, anche molti signori, vanno a cercare i funghi, trascorrono le loro vacanze nelle nostre vallate, vengono alla mostra con un bigliettino attaccato, questo cos'è, questo cos'è, per dire, su dieci funghi se ne hanno, non dico indovinato, sono riusciti a classificare 5 o 6, sono già contenti, allora si crea appunto una cultura, ma anche per noi, perché dobbiamo imparare, molti funghi riusciamo a reperirli e a classificarli grazie alla mostra del funghi, grazie ai numerosi cercatori che ce li portano. Grazie Pierino Bigoni, quindi vi diamo l'invito ad andare a funghi, questa è la stagione buona, con la massima attenzione però. Grazie per averci seguito al prossimo appuntamento con Europa Extra.